Noi abbiamo visto delle foto con una dichiarazione di un sindaco che ha detto che avrebbe messo fine a questo scempio. Se questa esperienza è uno scempio o no, tutti se ne possono fare un'idea. Dopo le polemiche infuocate della settimana scorsa, con le accuse di degrado da parte dell'amministrazione, seguiti al sopralluogo dei Vigili del Fuoco, Avionica apre alla città i locali della Casina del Principe per dimostrare che le sale che ha in dotazione vengono tenute in ordine e sono curate. Aperta anche la sala che ha suscitato le polemiche, le cui foto hanno fatto gridare allo scempio. Locali, chiarisce l'associazione, che non sono in gestione ad avionica ma che vengono usate come deposito. Rispetto al blitz della Polizia Municipale di giovedì scorso, mentre era in corso un evento musicale, l'esito è ancora incerto. Si è parlato dell'assenza di alcune autorizzazioni, in particolare della scia, ma ad ora non c'è alcuna sanzione. Insieme ai legali, l'associazione sta recuperando la documentazione da consegnare ai vigili urbani. Ma la questione è più che burocratica e politica. Avionica lamenta un attacco premeditato e ingiustificato da parte dell'amministrazione, peraltro alla vigilia della scadenza del progetto, il 31 ottobre prossimo. Se non ci vogliono, lo dicano apertamente. Il 31 ottobre finisce il progetto, quindi noi avevamo mesi fa presentato una proposta di un patto di collaborazione sulla continuazione di questa esperienza, sul perché oggi arrivano questi attacchi. Ovviamente ci facciamo due domande anche noi, mi sembra tutto un tentativo di screditare l'esperienza per non dargli continuità. Noi ora invece vorremmo confrontarci sul perché non si vuole dare continuità, che cosa non piace all'amministrazione di questa esperienza e perché si decide di non dare continuità a questo progetto.